Palla messa fuori ma prolunga l'azione di Real Madrid, Carvajan non so nemmeno come si pronuncia la mette al centro, inrovesciata Ronaldo! Buffon purtroppo non può farci nulla, che gol spettacolare! 2-0 Real! Ma bravissimo! Oh non l'ho mai fatto! Però come si pronuncia il giocatore con lui? Carvajal! Scusatevi! Si avvince, anzi si è vincente!